Eccoci qui ragazzi, benvenuti. Oggi voglio parlarvi di un discorso e fare un discorso veramente importante. Spero vogliate stare con me questi 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti. Non so quanto ci metterò a esaurire questo discorso. E il discorso qual è? Ed è importantissimo che ve lo capiate. La differenza tra tecnica e strategia. Faccio questo video per quale ragione? Perché noto che questi video, forse soprattutto su Facebook più che YouTube, generano una sorta di sentimenti contrastanti. C'è chi dice che, diciamo, sposa un po' questa filosofia, c'è invece chi subito parte dicendo Ah ma tu dici delle cazzate, quello che dici tu è utopia, perché il mercato discografico non esiste più, non c'è più un mercato, perché per fare questo tipo di iter o comunque seguire un iter di produzione come quello che dici tu servirebbero migliaia di euro. Oppure chi dice, ah ma tanto oggi con qualsiasi prodotto, basta che hai soldi, investi dei soldi e chiunque potrebbe emergere. Cioè insomma, tutti i discorsi di questo tipo. Questo perché ci arriveremo a dirvi perché vi sia instaurata nella testa quest'idea, no? E questo si ripercuote su che cosa? Su chi oggi fa il produttore, ma il produttore, ripeto, sono figure che sono rimaste le medesime, ma hanno cambiato modalità. Ovviamente il mercato è cambiato. E quindi cosa succede? Che sento sempre dire le stesse cose. Cioè, ah ma perché io artista dovrei investire dei soldi se la persona che deve seguire il mio lavoro non è lei la prima a credere in me stesso e metterci soldi. Cioè, generano tutta questa serie di pensieri, che magari avete anche voi adesso, no? E io voglio darvi proprio questa differenza tra tecnica e strategia. Perché? E' importante capirlo. Perché oggi siamo veramente accerchiati da un sacco di tecnici. Soprattutto in un settore come questo, che è da una parte altamente tecnico. Cosa intendo? Facciamo caso. Se voi andate da un compositore, di fondo un compositore possiamo dire che un tecnico, sicuramente è creativo, non sto confondendo tecnica con maestria, che è un'altra cosa, ma è un tecnico. Un recording engineer, chi si occupa di registrazione, è un tecnico. Chi si occupa di mixing, è un tecnico. Chi si occupa di mastering, è un tecnico. Ma i tecnici, o meglio, la tecnica, utilizza e dà gli stessi strumenti. Faccio un esempio. Cosa significa? Significa che se io devo fare una pubblicità su YouTube, al 99 su 100, a meno che io non voglio comprare le visualizzazioni, dovrò utilizzare i Google Ads. È uno strumento ed è uguale per tutti. Se voglio farlo su Facebook, dovrò usare i Facebook Ads. È uno strumento ed è uguale per tutti. Voglio rientrare in determinate playlist per cui devo conoscere il funzionamento, per esempio, di Spotify for Artists, di una serie di cose. Ok, sono strumenti. E gli strumenti sono uguali per tutti. La differenza la fa. Quanto una persona, piuttosto che l'altra, conosca quello strumento. Ma potenzialmente è uguale per tutti. Cioè, Google Ads è Google Ads. Che lo uso io, che lo uso un altro, sempre Google Ads è. Perché oggi spingono tanto su questa questione della tecnica? Perché hanno messo sul piatto della bilancia tecnica, quindi conoscenza degli strumenti, uguale ai risultati. Che da una parte può anche essere vero, però il discorso qual è? È che è inutile, ipotesi, investire 100, 200, 300, non so quanti soldi, in Google Ads per promuovere, sponsorizzare un video su YouTube se poi all'interno di quel progetto non c'è una strategia per fare in modo che quei soldini che avete investito vi rientrino. È vero che se io investo 100 avrò un risultato su Google che sarà un numerino X o Y, ma di fondo è un risultato fine a se stesso che non aiuta assolutamente nessuno. Però cosa succede? Mi rende molto semplice a me, operatore, venderti un servizio. Perché? Fateci caso. Perché dovete spendere migliaia di euro in studi di registrazione quando potete acquistare quello strumento per cui quella scheda audio, quel microfono, eccetera, e farvi le vostre produzioni a casa? È uno strumento? Sì, uguale per tutti, lo usiamo tutti allo stesso modo. Boh, non si sa. Sta di fatto che ce lo vendono in questo modo. Oppure, ah, fai il corso di mixing perché oggi i mixing engineer lavorano tutti in the box per cui come lavora, hai capito, Pinco Pallino allora puoi farlo anche tu da casa. Cioè, è un mondo che gira sulla tecnica. E la tecnica, sottolineo, lo sottolineo perché così vi si pianta in testa, ha, utilizza strumenti che sono uguali per tutti. Ok? La differenza dove sta è che la strategia al contrario della tecnica è ad hoc. Chi dice di utilizzare la stessa identica strategia per ogni cosa non può funzionare perché la strategia deve essere pensata ad hoc sul progetto e sugli obiettivi. Per cui, non solo questo, che cosa comporta chi fa tra virgolette lo stratega. Io in questo caso come stratega intendo una persona soprattutto quello che per me oggi è il vero produttore musicale. Ok? Cosa fa questa persona? Conosce le settorialità ok? Che si tratti di produzione o post-produzione e commercializzazione. Si avvale della collaborazione di altre menti ed altri elementi perché sa benissimo che non può fare tutto da solo e crea un ecosistema per raggiungere un determinato obiettivo utilizzando utilizzando determinati strumenti che siano poi anche pubblicitari eccetera eccetera. Per cui, ripeto, la strategia è ad hoc. Non esistono due progetti che utilizzano la stessa strategia o 90 su 100 ogni progetto deve avere la propria. Per forza se voi avete un progetto non potete pretendere che la strategia che ha usato Pinco vada bene anche per voi perché 90 su 100 non sarà così. Come? Non ha senso che voi vi mettiate nell'idea che attraverso l'uso di un determinato strumento e quindi attraverso la tecnica potrai raggiungere un determinato risultato perché i risultati sono misurabili e sono calcolabili e ponderabili solo attraverso la strategia punto e basta. Per cui quando sento queste cose perché adesso stanno iniziando a uscire fuori i discorsi il posizionamento il marketing musicale che io non ho idea di che cazzo voglio dire cioè il posizionamento o il marketing musicale certo esiste il marketing musicale ma esiste il marketing musicale se di base c'è dietro una strategia se no spiegatemi che senso ha ok? Non ha nessun senso come non ha nessun senso chi afferma di dire ah vabbè ma oggi l'importante è fare un sacco di lavori perché poi prima o poi ne imbrocchi uno che funziona cioè io ho sentito chi dice queste cose ok? che lasciamo perdere cioè no non è importante invece magari farsi una strategia ponderata legarsi a determinate settorialità cercare il collaboratore giusto farsi una bella squadra investire in modo culato evitare di buttare i soldi nel cesso facendo mille cose sperando che prima o poi una ti vada bene per cui questo per rispondere a chi ovviamente mi dice ah no ma tu dici delle cose che non vanno bene perché qua questo non è possibile oggi l'artista non c'è più nessuno che investe sugli artisti c'è tutte queste robe il mercato non esiste voi dovete capire che uno il mercato esiste e come c'è è cambiato non è più come vent'anni fa ma esiste e come c'è due gli strumenti sono uguali per tutti per cui se volete fare una pubblicità a meno che non abbiate voglia voi di capire e investirci dei soldi e magari buttarli via per capire come funziona Google Ads e vi affiderete a qualcuno che conosce Google Ads e vi farà una pubblicità ma punto terzo dovete mettervi in testa e capire che cosa significa creare impostare una strategia e la strategia è ad hoc per il vostro progetto non esiste una strategia che funzioni bene per tutti ok questo ragazzi è importante quindi volevo dirvi questa cosa qui e spero veramente che vi entri in testa e che la smettiamo con queste continue informazioni ma io lo capisco perché poi siamo bombardati da questo di dire ah ma questo esiste ma questo è utopistico ah per fare questo servono migliaia di euro voi pensate che io di solito i progetti che seguo e ho seguito tendenzialmente si ritrovano anche a spendere molto meno di quello che immaginavano seguendo una strategia molto molto precisa e costruita ovviamente ad hoc servirà del tempo servirà delle analisi servirà fare un'analisi sul vostro progetto serviranno determinate cose non è che uno ah guarda ok va bene oppure al contrario facciamo come dite voi cioè ah va bene ho fatto un video quanto voglio investire 200 euro in Google Ads ah perfetto investerò 200 euro in Google Ads boh vedremo cosa riuscirete a raccogliere in quella modalità secondo me zero avrete meno 200 non vi rientreranno mai vi rientrerà mai un euro avrete un bel numerino che magari su YouTube fa anche figo avere avere quel 10.000 20.000 30.000 non lo so punto e basta il giorno dopo sarete tutti da capo e cercherete il prossimo strumento con cui cercare di ottenere un risultato vabbè ragazzi questo era un po' il mio pensiero spassionato su questo tema strategia e strumenti alla prossima ciao ciao